Siamo un po' considerati il Bronx di Pesaro, siamo all'estrema periferia. L'altra volta siete dovuti intervenire voi e grazie a voi finalmente hanno ripulito il parco dei bambini, ma qui come vedete alle mie spalle è un casino, è un bisciaio, perché poi ci sono anche le bisce ed è difficile passare. In cima a via Monterosa hanno tagliato l'erba, ma più che cultura della musica lì è la cultura del fieno, perché proprio ci verrebbe fuori un pagliaio. Un marciapiede che non permette ai cittadini di essere usufruito, di essere frequentato? Certo, basta guardare, basta semplicemente guardare come sono le cose. È inutile che si cerca di vendere pan per focaccia, la situazione è questa, è sotto gli occhi di tutti. Da quanto tempo? Ma oserei dire da sempre, perché qui si fanno alcuni sfalci, anche negli anni passati, si fanno due, massimo tre sfalci, in alcune zone più centrali, fra virgolette. Per il resto se si fa uno sfalcio all'anno quanto si fa, il problema è quello degli animali, della pericolosità di chi ci passa. Ripeto, qui basta guardare. Poi se andiamo giù al centro sportivo, ai palloni, qualcuno mi ha detto che hanno tagliato l'erba, io sono passato prima, no. Il sentiero dove moltissimi residenti di Borgo vanno a passeggiare via, si trovano in difficoltà perché l'erba ormai, il sentiero si è stretto dalla metà, e anche lì si infiltrano animali, topi, bisce ed è un centro bellissimo che poi sta, un parco, ripeto, bellissimo e che poi in questo parco ci sono anche tantissime piante giovani messe a dimora da poco che sono già soffocate dall'erba. Quindi a cosa serve? Fare un parco, mettere a dimora nuove piantine per poi farlo soffocare dalle erbacce. Oltre all'erba c'è anche problema di buche, problema di non curanza anche dell'asfalto. Sì, sì, è generalizzato il problema. Il problema c'è quello dei buche, c'è quello dei marciapiedi che sono tutti così e anche se hanno cercato di rifarli in qualche modo, da qualche parte, però c'è un po' un degrado generale che sta, come posso dire, sta così lentamente aumentando, che non ci si rende neanche conto perché molto lentamente ma il degrado continua e, ripeto, non vorremmo essere il bronzo, insomma. Come ve lo spiegate questo degrado? È un degrado che è presente da molti anni, come lei dice, ma che è aumentato nell'ultimo periodo. Perché? Quando sono venuto ad abitare qui 38 anni fa, che era in pieno sviluppo questa zona, soprattutto questa, e ci si è, le amministrazioni comunali che si sono susseguite successivamente e si sono molto impegnate per il nostro quartiere, tant'è che lo stesso parco dei bambini che avete voi mostrato la settimana scorsa era un gioiello e che però poi pian piano, col tempo, senza mai fare manutenzione, lasciare, sta andando, è andato, tutto in degrado, tutto in malora e di manutenzione, questa è colpa della manutenzione, che si fa il minimo indispensabile giusto per tagliare l'erba, per passare nelle strade principali, perché se no. Se c'è una vera attenzione sulle cose, fa piacere quello che cerchiamo, ma se deve essere solo propaganda, è logico che noi siamo costretti a rivolgervi a voi per denunciare queste situazioni.